Ciao Kirby, devi toglierti di mezzo, altrimenti sarò costretto a... Mani in alto Kirby, questa è una rapina! Mmm, non sono un cattivo! Ehi Kirby, vuoi esplodere? Facciamo esplodere le... Ciao, sono un artista! Vuoi sapere il costo delle mie commissioni? Sì, sono molto costose! Ti senti gratis per tutti! Non sei mio amico! Ciao Kirby! Bella! Fra, vedi, Kirby, sono meglio di te, ecco perché ho questo cuore viola e non rosa come il tuo, quindi io... La mia testa! Quindi stai dicendo che quel cuore mi ha posseduto e adesso dobbiamo diventare alleati per distruggere un essere che sta minacciando il nostro pianeta? Beh, ovvio che ti aiuterò! Noi siamo migliori amici! Venite anche voi? Non sei mio amico... Per te nell'io . AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH